Confiscate a Sarno tre aziende agricole di allevamento ovini, caprini e bovini per un totale di 365 capi di bestiame, sequestrate dai carabinieri del nucleo investigativo in sinergia con la forestale di Salerno. Confiscati anche beni strumentali, contocorrenti e due appezzamenti di terreno per il valore complessivo di circa 700.000 euro, tutti riconducibili a un sessantenne del luogo gravato da numerosi precedenti penali, nonché affiliato al clan coamorristico Serino, operante nel territorio agronocerino sarnese. La medesima misura patrimoniale è stata applicata anche nei confronti dei familiari e conviventi. Il provvedimento scaturisce da mirate indagini patrimoniali, iniziate nel 2016 e dirette dalla DDA della Procura della Repubblica di Salerno, che hanno permesso di acclarare le sproporzionalità dei redditi percepiti rispetto al patrimonio accumulato.